Preghiera ai Santi Mario, Marta, Abaco e Audiface, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Santi Mario e Marta, che la Chiesa con i vostri figli Abaco e Audiface, venera come fedeli testimoni della fede fino al martirio. A voi rivolgiamo la nostra preghiera, nella certezza fiduciosa della vostra intercessione presso il Padre, Dio ricco di misericordia. Amen. Grazie per la visione!